Ci avviciniamo alle gare estive, come siete organizzati? Sì, anche quest'anno Fly Up Sport proporrà due eventi, Orobie Vertical il 2 giugno, una chilometro verticale da Valbondione a Rifugio Coca e il 5 agosto la classica Orobie Sky Race, un nuovo percorso revisitato, quindi un percorso di 22 km, 1700 metri di slivello positivo, tutto sulla sud della Presolana, quindi sempre con la Presolana in fronte, un percorso molto spettacolare che gli atleti che vi parteciperanno troveranno sicuramente molto molto interessante. Ci sono magari altre novità, soprattutto per quanto riguarda Orobie Vertical? Sì, una grossa novità, gara del 2 giugno da Valbondione al Coca, millimetri di slivello appunto, Orobie Vertical, seconda prova del Grand Prix Corsi in Montagna, che con la prova a staffetta di Leffe, l'Orobie Vertical e la gara appunto internazionale di Malonno di Corsi in Montagna classica farà parte del Grand Prix Corsi in Montagna, dove per Antonomasia partecipano tutti i migliori atleti di Corsi in Montagna, anche mondiali, dal De Gasperi ai Gemelli De Matteis, diversi stranieri parteciperanno a questo circuito, quindi per noi è un onore far parte di questo circuito e ci garantisce anche la presenza di un atleti di livello veramente internazionale. Quindi gli appassionati hanno dei buoni motivi per tenersi allenati. Esatto, non solo gli appassionati, ma anche i semplici proprio appassionati della montagna, sicuramente che assieperanno l'intiero e sentiero da Valbondione al Coca, come lo scorso anno, vedranno veramente uno spettacolo di altissimo livello, coronato anche da una santa messa, Rifugio Coca, in memoria di Fausto Bossetti, ormai alla seconda edizione. Quest'anno ricordiamo anche due amici particolari che purtroppo ci hanno lasciato durante quest'anno.